Serve a noi perché comunque ci ritroviamo dopo quattro mesi ed era importante almeno vederci anche se sarà veramente compresso questo steggio, quindi era giusto per vederci e comunque anche per vedere qualcuno che non avevamo ancora visto, per conoscerci un po'. L'Italia nel gruppo deve cercare di vincerle tutte perché siamo una squadra forte che migliora di partita in partita, è migliorata molto negli ultimi sei mesi e quindi penso che sia nelle nostre possibilità anche perché dobbiamo risalire un po' il ranking perché credo che l'Italia al diciottesimo o diciannovesimo posto non ci stia bene. Quagliarella sta giocando bene, è un giocatore italiano che gioca nel campionato italiano, il capocannoniere, credo che se lo meriti anche al di là dell'età che ha in questo momento. Poi lui sa benissimo che la stima che ho io nei suoi confronti perché è antica, perché è sempre stato un giocatore bravo, sa giocare, però sa benissimo che può esserci e non esserci. Però in questo momento credo che se lo meriti.